22 anni di origine marocchine, da due mesi cittadina italiana ma di professione spacciatrice, arrestata al casello di Vicenza Ovest dalla squadra mobile di Padova con 508 grammi di cocaina. La giovane, formalmente residente in provincia di Oristano, è domiciliata a Vicenza ma con attività di spaccio sulla piazza padovana, anche se non si esclude che la stessa attività non avvenisse anche nella cittadina del Palladio. Spaccio che non era sfuggito, sebbene la 22enne fosse molto accorta agli agenti della mobile che hanno verificato anche il suo andare e venire tra le due città, fino a lunedì quando appunto è stata fermata per un controllo all'uscita del casello di Vicenza Ovest. Il panetto di droga non ancora lavorato era tranquillamente tenuto in bella vista e in borsa, stupefacente per un valore una volta emesso sul mercato di 60 mila euro. Perquisita anche l'abitazione a Vicenza della ragazza, dove gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e il materiale necessario al confezionamento delle dosi. La 22enne è stata associata alla casa circondariale di Verona. Grazie a tutti.